Ciao a tutti, oggi capiamo cosa significa stranguria. Stranguria è un termine medico che significa dolore durante la minzione, quando facciamo la pipì, e tenesmo vescicale, quindi una sorta di dolorosa contrazione della vescica. Questo si verifica soprattutto durante una prostatite, che è una infezione della ghiandola prostatica. Ciao a tutti e alla prossima definizione.